Quindi da oggi lei ritorna in maniera dirontente in campagna elettorale? Penso di non aver fatto nulla, motivo per cui ovviamente non mi sono dimesso e continuerò, così come part'altro hanno deciso tutti i miei candidati di proseguire la campagna elettorale. È ovvio che appunto la giustizia deve necessariamente svolgersi, ma confido ovviamente il fatto che è solo questione di tempo, ma la verità verrà a galla e vi posso assicurare che è totalmente diversa da quella che è stata descritta dai giornali, dai giornalisti e dai media.